Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona domenica, un buon risveglio. Preghiamo. Signore, abbiamo affrontato la notte e davanti a noi il dono di un nuovo giorno. Non permetterci di sciuparlo con gesti e parole sbagliate, con inutili rancori, con illusioni effimere. Questo nuovo giorno è pezzettino del tempo che Tu hai concesso ad ognuno ed ognuna di noi. Unico e ripetibile occasione di crescita, possibilità di cura per le persone che ci sono state affidate. Signore, anche in questo nuovo giorno, aprici gli occhi per vedere ciò che c'è da vedere. Apri le nostre orecchie per udire ciò che c'è da udire. Apri le nostre labbra per poter dire ciò che ci chiedi di dire. Apri le nostre mani per cambiare ciò che c'è da cambiare. Signore, aprici il futuro attraverso la porta di questo nuovo giorno. Amen. Il testo di meditazione di oggi si trova nel capitolo 12 di Luca. È una parabola e, come ogni parabola, scaturisce da un incontro di Gesù. Uno della folla disse a Gesù, Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose, Uomo, chi mi ha costituito su di voi, giudice o spartitore? E poi disse loro, State attenti, guardatevi da ogni avarizia, Perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede, Che egli ha la sua vita. E disse loro questa parabola, La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé, Che farò? Poiché io non ho dove riporre i miei raccolti. E disse, Questo farò, Demolirò i miei granai, Ne costruirò altri più grandi, Vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. E dirò all'anima mia, Anima, Tu hai molti beni ammassati per molti anni, Riposati, Mangia, Bevi, Divertiti. Ma Dio gli disse, Stolto, Questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, E quello che hai preparato, Di chi sarà? Così, È di chi accumula tesori per sé, E non è ricco davanti a Dio. Voglio iniziare questa meditazione, Con un frammento di una storia, È la storia di Paola. Paola ruba il pane dalla tavola, E lo nasconde sotto il cuscino. Vive con noi ormai da tanto tempo, Ma non si è ancora abituata alla sicurezza dei tre e pasti quotidiani. Ha paura che domani non avrà abbastanza cibo per sfamarsi. La povertà, La miseria che ha vissuto, Se la porta dentro, È una cicatrice indelebile. E io mi chiedo, Ma chi le ha rubato la fiducia? Non è certo di Paola, Che parla alla parabola del ricco, Il ricco che costruisce granai più grandi per accumulare molti beni. I due modi di accumulare sono incomparabili. Paola accumula perché non ha conosciuto la sicurezza di ricevere ciò che le spetta giornalmente per diritto, Cibo, cura, affetto. Ha imparato sulla sua pelle che il pane quotidiano che evoca ogni giorno spesso non arriva. Tante volte ha chiesto pane a gente che le ha dato serpi o sassi. L'uomo ricco della parabola invece accumula perché avaro. E di fronte a un raccolto eccezionale, Non sa far altro che preoccuparsi di dove riporlo. La sua cupidigia si maschera di una falsa sapienza, Al punto da farci credere che possa esserci della saggezza nel suo pensare al domani. Ma la preoccupazione dell'uomo ricco non è rivolta al futuro. È piuttosto ne non avere granai abbastanza grandi per accumulare troppi beni. E se teme il domani, È perché ha paura che qualcuno possa saccheggiare i suoi depositi. Ma Dio gli dice stolto. Stolto, la tua vita ti viene richiesta questa notte. Stolto, eri già ricco e non avevi bisogno di accumuli ulteriori. Potevi lasciare agli altri i tuoi avanzi, Come ha fatto Boaz con Ruth, permettendole di spigolare nel suo campo. Stolto. Ti sei affannato nelle grandi opere di demolizione e di ricostruzione dei depositi. Stolto, i tuoi beni sopravviveranno a te. Ma la tua vita inizia a marcire, Come la manna accumulata, non condivisa. La tua vita non serve a niente ed emana già cattivo odore. Insomma, due ansi si confrontano in queste due storie, La storia di Paola e la storia dell'uomo ricco. Ansia d'accumulo e ansia di povertà. Ma esse hanno peso diverso nella giustizia di Dio. Signore, dì a mio fratello che divida con me l'eredità e la preghiera di Paola. Ci chiama a giudizio per non aver saputo condividere E per esserci appropriati della parte di eredità che le spetta. Beni superflui per noi, di cui non abbiamo bisogno. Signore, dì a mio fratello che condivida con me l'eredità. E la tentazione delle chiese è quella di rispondere sulla falsariga Della prima obiezione di Gesù, Chi mi ha costituito giudice o arbitro su di voi? E Gesù stesso sembra accorgersi che dietro quella domanda Non c'è solo una bega ereditaria. Essa coinvolge la giustizia delle relazioni, Il rapporto con il fratello, La giusta distribuzione delle risorse Nel nostro abitare la terra. E noi, gente religiosa, Siamo tentati di tacere, Di rimuovere la parola di giudizio Che risuona in questa parabola inquietante. E così, il povero che rivendica la sua parte di eredità, Di eredità negata, Si sente dire dalle chiese Rivolgiti a chi ha potere economico, giuridico, politico Per risolvere i tuoi problemi. No, non possiamo ridarti i diritti negati. Possiamo fare assistenza, elemosina. Ed il resto la storia sembra smentire La logica del regno, la giustizia del regno. Ed il povero continua a sentirsi dire Stolto, non hai saputo trattenere il panet Lo sei lasciato sottrarre. E dunque muore. Ma il povero che non ha pane Chiede giustizia, non elemosina. L'avaro, il ladro di risorse, Riceve dalla parabola una parola chiara di giudizio, Accompagnata tuttavia da un prezioso invito alla libertà. Perché solo lui può spezzare le catene che lo imprigionano. La parabola lo sollecita ad abbattere le mura Che si è costruito intorno, Per riscoprire la vera priorità della vita. Ma come querire dalla malattia dell'accumulo Che ci porta ad essere così attaccati alle cose Da sottostimare il valore stesso della vita? Eh, non è semplice. Oggi abbiamo bisogno di un discernimento più complesso Rispetto agli ebrei nel deserto. A loro veniva richiesto di non accumulare la manna. Ma era difficile cadere nell'errore. La manna non la si poteva accumulare perché marciva. Vivevano nel deserto, il luogo della precarietà, Dove non c'è una dispensa. Il nostro problema consiste nel fatto Che le cose che accumuliamo non marciscono. Sopravvivono alle nostre fragili vite. Nonostante ci attacchiamo ad essi come a fetici di mortalità. Insomma, a noi che abbiamo pane in abbondanza, È lecito pregare, dacci oggi il nostro pane? La risposta ci viene da quel plurale dell'invocazione. Dacci, rivolto al padre nostro e non mio. Lo sguardo capace di questa pluralità aperta agli altri È scelta quotidiana. È decisione di allargare l'orizzonte. È invocazione del regno. L'uomo ricco è tentato di saltare immediatamente All'ultima frase del padre nostro, Liberaci dal male. Non ha bisogno di invocare il pane quotidiano. Il riferimento al quotidiano, tuttavia, È indicazione preziosa. Non solo per il ricco, ma anche per il povero. Spesso tentato di rivindicare per sé i granai pieni zeppi dell'uomo ricco. Il modello proposto non è la società dell'accumulo. Il modello evangelico è il pane quotidiano. La sapienza di imparare a chiedere ogni giorno il pane quotidiano, Di invocarlo al plurale, Ci vincola così gli uni agli altri, Ci rende responsabili gli uni degli altri. Siamo ricchi di fronte a Dio Solo quando sappiamo fare degli altri Il nostro prezioso bene. Quando ci prendiamo a cuore Che tutti abbiano la vita in abbondanza. Il pane che invochiamo Ha la pretesa non solo di nutrire i corpi di tutti, Ma anche di sfamare quella fame di giustizia Di cui sono portatori i beati discepoli del Signore Crucifisso e Risorto. Grazie. 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 Grazie.